sono gabry costa in questo let's play in questo picchiaduro a scorrimento dobbiamo andare avanti dobbiamo fare il secondo livello di night slasher remake e guardate che cosa bisogna fare bisogna distruggere altri mostri facendo aumentare il punteggio guadagnate una vita extra wow quello è un vampiro ora qui bisogna correre e inseguire quella carrozza ma perché ci tocca sempre fare una scena di inseguimenti io non lo so questo gioco è ancora più bello degli altri davvero e poi è moderno fatto benissimo night slasher remake è ancora più bello della versione vecchia dell'arcade qui c'è da affrontare due boss però questi sono a parodia di pinocchio e geppetto però fa ricordare slappy il pupazzo parlante di piccoli brividi li ho sistemati tutti e due eliminati ricordatevi che io sono il re dei picchiaduro mi piacciono questi picchiaduro a scorrimento li ho sempre amati sin da quando ero bambino avete visto siamo in un cimitero ci sono le lapidi le tombe e quella scritta rip vuol dire riposa in pace rest in peace c'è da sconfiggere tanti boss questo è un mostro di roccia che strano questi boss non hanno nomi non ce li hanno vediamo se riusciremo a completare sto secondo livello abbiamo finito iscrivetevi al canale mettete un mi piace ciao a tutti grazie a tutti